è vuoto ma porca miseria salve a tutti ragazzi sono lorenzo e bene su questo nuovo video da oggi vorrei proporvi una nuova rubrica chiamata giochi pazzi dove andrò a giocare tre giochi strani pazzi alla volta e commentarli con voi quindi se volete sotto nei commenti potete scrivermi qualche gioco strano pazzo che sia online o che sia da scaricare e io lo andrò a giocare nel prossimo video quindi ragazzi possiamo iniziare col primo gioco il mio anglese è bellissimo created for insanity jam 2015 insanity proprio insanity oggi andremo a giocare il primo gioco è questo dove dovremmo vestire dei vecchi che escono dalle docce che sembrano mio nonno perché mio nonno è mezzo calvo questo gioco è strano molto strano muori 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 in questi casi bisogna stare attenti perché poi ti ammazzano ragazzi sono troppi poi è un casino oh no oh no oddio quanti sono mi devo scappare adesso mi devo scappare perché non c'è il coso non c'è quello per ricaricare non c'è quello per ricaricare se vengo blocca asciugamani uno due tre quattro cinque tu che ci fai qui sette otto quanti sono che 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 te ne devo nooo sono morto aiuto uno due dove tre tre no quattro cinque quanti sono già iniziano ciao nooo ha le tettine questo tizio mmmm le vuoi assaggiare no no non mi vuoi non voglio vedere i tuoi capezzini no no non voglio vedere i tuoi capezzini allora perfetto perfetto quello è volato è volato cosa che ha fatto go ma questi volano si saltano di sopra per degli asciugamani mi hanno bloccato quanti siete siete tutti nudi che ci fanno sopra di me raga mi hanno bloccato hanno bloccato hanno bloccato l'entrata sono scarichi nooo sbaglio o vanno a rallentatore così sbagliatissimo non vanno a rallentatore mi ammazzeranno lo stesso devo stare in un angolino in un angolino in un angolino in un angolino basta che non mi metta a 90 muori pure tu muori 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 velocità veloci no 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 sono scarico no ho la velocità che culo no ok sono qui asciugamani no 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 360 non ce la faccio ma andateve ma l'ho avvazzato cavolo ok ragazzi credo sia meglio passare al prossimo gioco il gioco che andiamo a giocare si chiama infinder è un gioco dove saremo un cervo che deve attraversare la strada crossy road uguale e spara cose bianche da sto gioco è la pazzia no se voglio posso sparare pure al col balene dal culo che cos'è sta cosa non mi dire non mi dire cularo si 510 punti vai 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 no 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 è un pochino strano sto gioco solo un po solo un po e sto maledetto questo è un cervo proprio bambi dov'è bambi questo cervo è pazzo ha una speedy velocissima pronti via ho facca poter il camion due due combo crash andate to Aspetta un attimo Che cosa è sta Che cosa è sta la velocità Ma ci sono Posso usare i tasti Posso fare i punti da solo Ho scoperto un bug di gioco Fighissimo Come faccio Che culo Sì Abbiamo superato Ho fatto 13.550 punti con i trucchi Grande Coniglio smettila di adorarmi il culo Grazie Pronti partenza Via Dov'è dov'è No Sono morti il coniglio e il cervo Tutti sono morti Ok perfetto Ok Ho pazzo sto gioco Pronti partenza Via 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 Che culo Oddio Sì Abbiamo superato pure il secondo No 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 Ma Sì Che culo di merda che ho È successo un casino Che succede Ti stanno ammazzando Quanti punti sto facendo No 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 no' Dove vederlo sta cosa State scherzando зарando Scherzate Non ci credo Far morire Questo camion Questo Niente Raga Così prendo più punte di prima Va bene ragazzi Eh Credo sia meglio Passare Al prossimo Gioco Eh, sì, si chiama Potato Simulator Sono una patata ragazzi Ed è bello essere una patata in un posto così Eh, fatemi fare la patata Le patate dovrebbero salire sopra le sedie Vediamo se riesco a fare qualcosa Sono morto, vabbè, abbiamo capito Ma poi la canzone di 7 è fighissima Non si vede niente, stavo per cadere Salta, ma sta patata salta come l'uomo sulla luna Un piccolo passo per una patata Un grande passo per le patate Ok raga, ok raga, sì, c'è un coltello Posso usare i coltelli, non li posso usare Mi sa che non li posso, posso lavarmi Mi metto qua dentro No, ferma Ferma, c'è un problema, patata, patata Ok, ferma Ferma, patata Non ce la fa saltare la patata La patata non salta Sì No, sono caduta Vaffanculo, devo fare tutto da capo La sopra La sopra La sopra Sì Sono salito qua sopra Adesso che devo fare Che culo Sì Sono una patata Ma le patate sanno volare Patate distrutta Ok ragazzi Il video di Gifrish è qui Se il video vi è piaciuto lasciatela e commentate Vi invito a iscrivervi al canale Se volete che io continui questa rubrica Scrivetelo sotto nei commenti Consigliatemi qualche gioco E noi ci rivediamo al prossimo video Ciao Ciao